Bene, ciao a tutti, bentornati sul canale, oggi apriamo questo, Iansolo, Iansolo della serie Star Wars Assalto Imperiale, e allora andiamo subito all'apertura, la barzelletta di oggi è questa, qual è il colmo per un paracadutista? Il colmo è avere sempre la testa tra le nuvole. Bene, andiamo ad aprire con le forbici il nostro pack, qui c'è la nostra bella, il nostro bel character, il nostro personaggio, eccolo qua, Iansolo, adesso magari in telecamera si vede poco, ma i dettagli sono, per una miniatura di due dita, i dettagli sono buoni. Allora, dentro il pack di solito troverete sempre questo foglio, che da un lato c'è la missione uno contro uno, e dall'altro invece abbiamo le missioni secondarie. Allora, avremo sempre il nostro personaggio, e come terza cosa abbiamo sempre delle carte, questo è ciò che si trova dentro il pack. Allora, in particolare, questo è in inglese, ma va bene, è un inglese semplice, abbiamo la deployment card, che è questa, la carta del personaggio, abbiamo due skirmish mission cards, che sono le missioni one to one, uno contro uno, abbiamo la missione secondaria, che è imperial entanglement, che guarda caso è questa, quindi questa carta parla di questa missione qua, missione secondaria, e abbiamo sei carte comando, le command cards, e una di premio, questa qua è la golden card, eccola qua, e abbiamo sei carte comando. Questo è ciò che si trova, di queste ne avrete tante, ogni pack ce ne sono, ne fornisce quattro, da quattro a sei carte, quindi avrete un bel mazzo gigante. Bene, detto questo, vi lascio le ultime due battute, e poi ci salutiamo. Qual è il colmo di una rana? Il colmo di una rana è sputare il rospo. Seconda battuta, qual è la differenza? Seconda battuta, qual è la differenza fra una porta e una valigia? La differenza è che la valigia si porta, mentre la porta non si valigia. Bene, detto questo, vi saluto, grazie per aver visto il video, l'iscrizione al canale, è gratis, non si spende niente, 0 euro, e niente, ci sono tanti altri pack da aprire di Star Wars, se vi piace Star Wars, altrimenti abbiamo tanti altri giochi nel canale, dovremmo essere arrivati a 105, mi sembra 106, e vabbè. Bene, un saluto da Mario, alla prossima, ciao!